la mano del signore non lo so come si fa a spiegare è quando tu vai alla porta vecchia vicino al mare ci sono le signore con le porti aperte che grigliano le massaglie a venuto sincera perché a volte ci vorrebbe un po' di impazienza per non menare le razioni un po' di impazienza la mano del signore è per un miracolo e non accade mai e allora siccome noi siamo stanchi e abbiamo bisogno di una tregua che in realtà quella si rivela almeno l'abbiamo canzonata non so se si sta capendo qualcosa di quello che sto dicendo intanto a me tolocina a me tolocina Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.